Benvenuti a questa quarta lezione del corso Tinkercad, ripartiamo da dove ci siamo fermati nella lezione precedente, quindi dalla dashboard. Abbiamo il progetto, come avete visto nella scorsa lezione, che in automatico è stato salvato. A questo punto, per tornare a lavorare su questo progetto, possiamo cliccare su questo tasto, modifica questo e si riaprirà il piano di lavoro con al centro il nostro cubo, esattamente come l'abbiamo lasciato. Perfetto, allora in questa lezione vediamo tutte quelle che sono le forme e non solo forme che Tinkercad ci mette a disposizione per costruire i nostri oggetti. Quindi iniziamo ripulendo il piano di lavoro, in questo caso posso utilizzare o il tasto elimina oppure, vi faccio vedere, oppure torno indietro, ricompare il cubo e semplicemente col tasto cancella dalla tastiera. E vediamo tutte quelle che sono le forme che Tinkercad ci mette a disposizione. Dove le trovo? Le trovo, come vedete, in questo menu, in questa barra scorrimento sulla destra. Tutte quelle che vedete di base quando aprite un profilo sono quelle che vengono chiamate forme di base. Quindi nelle forme di base trovate sia forme piene, la maggior parte in realtà, sia le prime due sono forme vuote. Ora su questo ci torneremo meglio nella prossima lezione. Per ora diciamo che ve le ho nominate. E come vedete Tinkercad vi mette a disposizione tantissime forme diverse. cubo, cilindro, sfera, tetto, cono, tetto circolare, ok? Quindi avete tantissime possibilità per importare direttamente una forma all'interno del vostro piano di lavoro. Per importare una forma semplicemente basta cliccare con il tasto sinistro del mouse e trascinarla. Eccolo qua. Se ne voglio importare una nuova scelgo un'altra forma e importo la successiva e così via. Le forme di base però non sono le uniche che Tinkercad vi mette a disposizione. Come vedete infatti qui questo è un menu a tendina. Quindi se cliccate su questo triangolo nero vi si apre un menu a tendina dove ci sono tantissime altre forme anche con nomi diversi che voi potete utilizzare. Quindi ora ve le farò vedere molto velocemente diciamo le principali. Si dividono in quattro categorie. Tinkercad, Shape Generator, Circuits, Printable Kits e You. Cinque, diciamo You non sono proprio le forme, è una sorta di personalizzazione che potete fare delle vostre forme preferite. La vediamo un po' per ultima. Partiamo dall'inizio con Tinkercad. Tinkercad trovate le forme di base, quelle che vi ho appena fatto vedere, oppure potete trovare testo e numeri, quindi se seleziono la seconda voce come vedete trovate sia la forma testo che potrete personalizzarla semplicemente scrivendoci dentro, oppure le lettere singole, quindi ci trovate tutto l'alfabeto e allo stesso modo, in basso avete una seconda pagina da scorrere, trovate numeri da 0 a 9 ovviamente e qualche forma particolare che può sempre essere utile. Quindi la chiocciola, la chiocciola, la E, il punto esclamativo e il punto interrogativo. Andando avanti trovate i caratteri, quindi caratteri in realtà sono forme come occhiali, cono gelato, zampa, uovo, quindi forme abbastanza particolari che però per una modellazione possono a volte tornare utile. E invece cosa molto utile sono i connettori, i connettori vi permettono di creare incastri, se dovete immaginate di modellare un robot dove modellate il corpo e a parte le braccia, attraverso i connettori potete in maniera molto molto semplice andare a crearvi un incastro che poi una volta stampato in 3D funzioni realmente, funzioni effettivamente. I connettori sono molto buoni, come vedete qui abbiamo la parte di un incastro, chiaramente per fare l'altro ci servirà un giunto. Qui vi fa vedere che i connettori sono bloccati e quindi non possono essere modificate, vi da questo avvertimento, non possono essere modificate le dimensioni perché altrimenti poi quando si va a stampare, se si scala uno e non si scala l'altro, non tornano più gli agganci e quindi a quel punto sarebbe inutile averli messi. Quindi sul giunto dovete trovare più o meno quello che vada bene per il vostro progetto. Passiamo alle forme successive, quindi sempre attraverso il menu a tendina entriamo in Shape Generator. Shape Generator come vedete è diviso in due sole categorie, in evidenza e tutti. In evidenza sono le forme più utilizzate dalla community di Tinkercad, quindi sono quelle che statisticamente vengono utilizzate di più. Come funzionano? Sono anch'esse forme che però possono essere modificate, per esempio prendiamone una semplice, prendiamo il cilindro, eccolo qua, estruso. Come vedete qui avete una griglia dove poter andare a modificare manualmente attraverso dei punti, dei manubri, quella che è la forma, quindi a partire da un cilindro possiamo personalizzarla come più ci piace. Quindi vedete quando io vado a modificare la forma in visione bidimensionale, in automatico vado a modificare la forma sul 3D. Questa chiaramente è semplicemente un'estrusione della base che io sto disegnando. Ecco qua, fateci caso, ora la sto deformando. Eccolo qua, vedete? Per farlo vedere meglio, cancelliamo quello che c'è accanto e con il tasto adatta alla vista, eccoci qua. Se vi ricordate era quello che vi avevo fatto vedere nella lezione precedente. Vedete come io mi sposto sulla visione 2D, vado a far cambiare la forma 3D di estrusione. Quindi una volta che dal cilindro di partenza sono arrivato alla forma che mi interessa, ecco, ho la mia forma 3D che ha tutte le caratteristiche di tutte le altre forme di Tinkercad. Quindi qui, come vedete, avete una selezione anche qui su due pagine delle forme più utilizzate. Se vi servono forme diverse, basta andare nella categoria Shape Generator Tutti e come vedete ci sono molte più pagine e molte più forme. Come dalle carte geografiche, potete importare la carta degli Stati Uniti e andare a scegliere lo stato che più vi interessa. In automatico, il Kansas ora non è forse uno dei più rappresentativi, però in automatico, vedete, facciamo la solita cosa di prima, vado a cancellare la forma che non mi interessa, seleziono la forma che mi interessa e adatto la vista semplicemente a quella. Quindi, se voglio la California, torniamo ad adattare la vista, eccola qua. Bene, e questa la posso fare con Stati Uniti, Cina, Europa, Giappone, Australia, ok? E poi tantissime, tantissime altre forme, dalle scale alle cremaliere, grafici, grafico a barre, vedete, avete una selezione di forme, queste create e caricate dagli utenti della community, che vi possono aiutare nei vostri progetti. Quindi, una cosa, per esempio, sempre molto utile sono gli ingranaggi. Andiamo a spostare leggermente, vedete, nell'ingranaggio potete molto semplicemente decidere il passo, quindi mettiamolo a 4, eccolo qua, molto più largo rispetto al 2 di partenza. Potete anche farlo col tastierino numerico, andando a selezionare, se voglio 2.5, posso scrivere 2.5, ecco l'invio, eccolo qua, mi torna a dimensione. Potete scegliere la pendenza, quindi se mettere, eccolo qua, i denti praticamente più smussati, più o meno smussati, il numero di denti, 20 piuttosto che 5, ok? Come vedete, il numero di denti ci vuole un attimo, 5 sono un po' pochi, probabilmente per le impostazioni che gli ho dato prima, ecco, diamogli comunque 18, 20. Altezza è il diametro interno, quindi ve la potete personalizzare e qui potete scorrere, ci sono 7, 8, 9, 9 pagine di forme completamente personalizzabili, da quelle semplici a quelle più complesse. Ok, sono quasi tutti i solidi geometrici che possono essere personalizzati. Ormai ve li faccio vedere molto velocemente tutti, giusto per darvi un'idea. Le pagine, come vedete, aumentano perché la community carica molte forme nuove con abbastanza regolarità, quindi questa è una sezione che è sempre destinata a crescere. Ok, giusto per curiosità, ormai arriviamo in fondo. Ci trovate anche forme che a volte magari possono essere difficili sia da modellare che da stampare anche. Per esempio, albero, come vedete, per stamparlo dovrete fare un po' di tentativi, sicuramente bisognerà andare a modificare più che altro lo spessore. Ok, comunque, sono tutte prove. Ecco, siamo arrivati a pagina 17. Tutte queste forme si comportano esattamente come le forme di base. Andando avanti troviamo i circuiti, quindi su questo poi faremo una parte di approfondimento. Qui trovate fondamentalmente sia parti elettriche, come per esempio questi sono LED, oppure con la batteria, quindi questi sono essenzialmente supporti stampabili, sia i componenti classici di Arduino. Quindi adesso cancelliamo tutto e vi faccio vedere dalla scheda base Arduino Reb. Questo è molto utile, questa parte qui, se avete bisogno di conoscere l'ingombro delle varie componenti. È una cosa classica, se si costruisce una scatola dove all'interno andrà l'Arduino, avere il modello 3D preciso dell'Arduino per costruirgli intorno a un qualcosa risulta spesso molto molto utile. Come l'Arduino, come esempio. Ma stesso discorso si può fare per i motori, piuttosto che per i servomotori e così via. Qui ha anche le batterie, banalmente, se devo farmi l'incastro per 3, 4, 5 batterie. Qui ho la pila classica con l'ingombro, quindi in un attimo riesco a ricavarmi le dimensioni precise. Ultima cosa, e printable kits, queste sono magari forme un po' più giocose, quindi abbiamo kit già pronti per la stampa, componibili. Ci abbiamo per esempio i dinosauri, divisi in tutte le varie pezze, testa, mandibola, collo, torso, piede, artigli e così via. Piuttosto che lo scheletro, quindi per ora ci sono questi due, poi magari ne verranno aggiunti altri. Quindi qui se voi vi importate tutti i singoli pezzi e li stampate, poi potete ricostruire queste forme. Queste diciamo sono tutte forme, come nel caso degli incasi, sono forme bloccate, perché chiaramente se andate a modificare poi queste proporzioni non torna più una volta stampato. Quindi queste sono forme che in realtà possono essere usate all'interno di progetti, ma non possono essere modificate. Ecco, come avete visto esistono tantissime forme che possono essere utilizzate all'interno dei vostri progetti. Benissimo, con questo si chiude questa quarta lezione dove abbiamo esplorato tutte le possibilità che vi dà Tinkercad per creare oggetti o progetti tridimensionali. E vi do appuntamento alla prossima lezione. Grazie. Grazie.